Piazza Prefettura a Campobasso è diventata un luogo di punizione, strada chiusa con la pista di ghiaccio al centro e attività commerciali che muoiono. Piazza Prefettura a Campobasso è diventato un posto punitivo, questa è stata la conclusione della conferenza stampa che hanno tenuto i commercianti dell'area che insistono in Piazza Prefettura, in via Ferrari, via Marconi e nella parte alta del centro murattiano. C'è anche il parroco della chiesa cattedrale Don Michele Tartaglia che ha sollevato unitamente i commercianti il problema di questa piazza che addirittura chiusa per questioni di antiterrorismo, chiusa ancora per la pista di pattinaggio. E invece di trovare una sua valorizzazione dal punto di vista e-commerciale e soprattutto anche di immagine della città, beh invece trova una chiusura completa. Ecco perché è stato in pillole ritenuto che l'amministrazione comunale di Campobasso considera Piazza Prefettura, via Ferrari come una sorta di luogo punitivo. Tantissime le attività commerciali che si sono seguite nel corso di questi anni che hanno dovuto chiudere perché non si fa cassa. Così anche c'è la difficoltà per i disabili di poter accedere nella chiesa cattedrale, c'è la difficoltà per i mezzi di soccorso di poter transitare per Piazza Prefettura verso il centro storico. Beh è chiaro che sotto accusa è l'amministrazione comunale di Campobasso che ormai da anni dimentica questa diciamo quest'area centrale della città di Campobasso che risulta essere completamente abbandonata a se stessa. È un passaggio fondamentale questo perché ormai si parla di questo pezzo di strada dal 1995 ad oggi e nessuna soluzione né di piano né di programma è stato mai attuato per quello che riguarda Piazza Prefettura, via Ferrari, via Marconi per l'area che dovrebbe essere viva dal punto di vista sia commerciale che poi per quello che riguarda l'immagine stessa della città di Campobasso. È l'ennesimo grido di SOS perché è morta praticamente quest'area centrale e questa pista di pattinaggio al centro va a chiudere quella che è stata ritenuta l'inettitudine e l'incapacità di amministrare una città capologo di regione.